Io inizierò facendovi vedere questo che è, parafrasando Martin Luther King, un editoriale che è stato pubblicato, anche lo presento in onore del posto che ci ospita, cioè un istituto così glorioso per l'ortopedia italiana, un editoriale di una rivista importante come il Journal of End Surgery, cui si dice io ho un sogno, la distrofia simpatica riflessa non esiste. E poi questo ortopedico chirurgo fa una serie di considerazioni che lo portano a concludere che effettivamente è una patologia che non esiste. È una bufala, cioè qualcosa creato in parte dal mondo accademico e dal mondo dell'industria. In realtà già poi leggendo bene il gruppo editoriale del giornale si dissocia dal proprio editorialista dicendo è un'opinione di tutto personale, noi non condividiamo assolutamente. E questo ve la faccio vedere come iniziale. Perché in realtà dobbiamo risalire a qualche secolo prima per identificare il vero inizio e l'interesse per una patologia così complessa e ancora così dubbia oggi. Addirittura vi posso far risalire a Ambrose Paré che viene considerato il padre della chirurgia, il primo che per esempio ha identificato una situazione che oggi chiamiamo della sindrome dell'alto fantasma, quindi all'interno del cosiddetto dolore neuropatico, che ancora oggi non sappiamo se è anche l'algodistrofia può entrare in questo complesso di patologie. Però la cosa caratteristica è che Ambrose Paré fu salvato dall'algodistrofia perché eseguirono una febbotomia per un salasso a Carlo IX, re di Francia, che ebbe in seguito a questo problema un dolore cronico all'arto che è persistito per mesi e mesi e che spesso si portava all'amputazione. Invece Ambrose Paré disse non amputiamo, passerà. Il dolore passò, il re fu grato, tant'è vero che lo salvò dalla famosa strage degli ugonotti, perché Ambrose Paré era un ugonotto, mettendone nell'armadio della propria stanza. Quindi l'algodistrofia, già questo come merito storico di salvare un grande della chirurgia, l'ha avuto. Però la vera nascita è questa, questo è il caso di un paziente che aveva avuto una lesione d'arma da fuoco durante l'assalto alle truppe napoleoniche a Badacios e riportò questo medico il caso di questo soggetto che aveva questo dolore bruciante in seguito a questa ferita d'arma da fuoco. E questo è documentato, è la prima vera documentazione letteraria del problema algodistrofia, che poi ebbe un grandissimo, diciamo così, punto di svolta quando questo Silas Weir Mitchell, che era un medico importante dell'epoca, diciamo rappresentava la medicina americana, nei confronti, ed era coevo, ad un altro grande medico che era Sir James Paget, quello del morbo di Paget, che infatti abbiamo anche una corrispondenza tra i due, in particolare riguarda questo problema, cioè all'identificazione di una sindrome caratterizzata da un dolore cronico, urente, all'arto, superiore in questi casi, che secondo Paget deve essere paragonabile a quello dei cosiddetti geloni, mentre Weir Mitchell ipotizzò che ci fosse qualche problema neurologico distale del sistema nervoso periferico che desse luogo a qualche alterazione cronica ancora non ben identificata. Tra gli allievi poi di Weir Mitchell si creò questo termine cosiddetto di causalgia, che è il primo vero termine che identifica questa patologia. Vedete, ebbe anche successo, tant'è vero che pochi anni dopo viene incluso anche in un dizionario medico, quindi la causalgia identifica quel dolore cronico all'arto in seguito ad una lesione di tipo neurologico, perché in quel momento era identificato il problema lesione neurologica, algodistrofia, dolore cronico di diverso tipo. Ora, l'altra grande tappa nella conoscenza storica di questa patologia si deve a quest'altro autore molto famoso, che è Sudek, che era un chirurgo tedesco, che presentò proprio una serie di casi clinici durante il congresso del 1900 a Berlino. E in questo lui ipotizzò che esistessero delle forme diverse di distrofia ossea. Perché questo? Perché è da ricordare che pochi anni prima erano stati introdotti i raggi X. E Sudek divenne particolarmente esperto nell'esecuzione dei raggi X, per cui effettivamente fece i raggi X e scoprì che c'erano diverse forme. Lui identificò il problema di algodistrofia cronica con il problema di distrofia ossea, identificata dal punto di vista radiologico. Infatti, è identificato anche un altro fatto importante per noi, che buona parte dei casi vanno ad un'istituzia di integrum, cosa che per noi, ed è vero oggi sappiamo che circa tre quarti va incontro nella guarigione spontanea. Quindi è un dato fondamentale che all'epoca già Sudek aveva identificato. Queste erano le cinque forme. Tra questa fu identificata quella che era l'atrofia infiammatoria riflessa acuta, detta poi da un suo allievo di Sudek in onore del maestro. L'altro grosso capitolo fu quando si incominciò a studiare il problema relativo al ruolo del sistema nervoso autonomo. E soprattutto grazie alle risce che incominciò a ipotizzare che vi dovesse essere un ruolo. Perché quando vi era ad esempio un'iperattività del simpatico era frequente una sindrome dolorosa cronica. Per cui ipotizzò che la simpaticectomia fosse uno dei meccanismi di cura e praticò ovviamente con dei risultati. Sappiamo oggi che non è invece così della realtà, però all'epoca identificò uno dei fattori importanti, cioè il ruolo del sistema nervoso autonomo nella genesi dell'algodistrofia. Tanto che portò Evans, anche egli un chirurgo, a definire il termine che poi ha avuto un grande successo, quello della distrofia simpatica riflessa. Quindi sottolineando che vi era il problema distrofia, però era collegata strettamente al ruolo del sistema simpatico. Questo ebbe un grande successo. Lui lo pubblicò su un'analisi internal medicine, quindi non una rivista, però sta andando bene a vedere la letteratura. Paradossalmente nello stesso anno poi si pubblicò un articolo in cui ipotizzava un'altra patogenesi, particolarmente patogenesi relativa al ruolo del danno arterioso, arteriolare per meglio dire, nella genesi di questo dolore cronico. Per cui venivano a confrontarsi due ipotesi, una in cui c'era il simpatico al ruolo preeminente e l'altra invece che era un danno post-traumatico del sistema microcircolatorio. Quindi questa che è sicuramente più vicina a quella che è oggi la concezione, nonostante fosse obbligato su New England, fu totalmente abbandonato, perché queste sono le due ipotesi, quella di Evans e quella di Foisy. Vedete qual è stato l'impatto di queste due teorie? Una, diciamo quella di Foisy, più vicina alla realtà di quelle che oggi consideriamo, l'altra decisamente più abbandonata. Ebbene è stato esattamente l'opposto. Questo vi dice quanto poi la letteratura non sempre corrisponde alla realtà scientifica. Bisogna saper vendere bene ciò che si pubblica. Sicuramente Evans l'ha venduta molto bene, perché la teoria di Foisy è addirittura scomparsa dall'alteratura, mai più citata, mentre quella di Evans è diventata, vedete, fino al 2000 il termine preponderante. Questo perché? Perché c'era, e questa è la teoria del microcircolo, che è quello che vi ho detto prima, c'era, diciamo così, la nascita storicamente di un altro aspetto fondamentale per capire questa patologia, cioè il problema dolore. Finora si era posta attenzione su il simpatico, il microcircolo, ma non sulla tipologia di dolore. Perché? Perché era di un interesse relativo, nel senso che non esisteva una specialità. La specialità sorse dopo la Seconda Guerra Mondiale fu fondata quella che si chiama IASP da questo signore che in Giobonica fondò la IASP, vedete, e a questo punto, nel 1953, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il dolore ebbe un ruolo preponderante nella definizione, perché la patologia, diciamo, fu territorio specifico dell'algologia, degli algologi, degli anestesisti, perché all'epoca erano tutti anestesisti che si dedicavano elettivamente al problema della terapia del dolore. E a Giobonica si deve anche quella classificazione che oggi, in stadi successivi e progressivi di evoluzione della malattia, che oggi non reputiamo più corretta, perché non è vero che si passa in questi stadi, perché spesso, ovviamente, si può avere una... non sono stadi successivi cronologicamente, ma spesso sono stati associati o addirittura che permangono nella stessa situazione. Questo poi lo vedremo dopo. Quindi il ruolo di Giobonica è fondamentale. Perché creò questa IASP? Alla IASP si deve molto, cioè l'International Association of Study of Pain, che è questa organizzazione che raccoglie gli algologi, cioè gli anestesisti che all'epoca si occupavano di terapia del dolore. E, vedete, questa è la classica definizione nei tre stadi successivi, in cui c'era uno stadio warm, caldo, il primo stadio acuto, seguito da uno stadio, invece, cold, e poi da uno stadio cronico, in cui vi erano gli esiti. Il ruolo della IASP è diventato sempre più importante e sapete che loro hanno fatto diverse riunioni per l'aspetto algodistrofia, che rappresenta un target difficile da definire, anche dal punto di vista algologico. Per cui ci furono varie conferenze, vedete, questa prima in Germania, nello Schloss-Rettershof, e poi la famosa conferenza di Orlando del 94, che definì e cambiò i termini. Quindi abbandonò il termine distrofia simpatico di fresca per sostituirlo, dando priorità assoluta all'aspetto dolore, il termine Complex Regional Syndrome, Pain Syndrome, ovviamente, perché il dolore veniva a assumere una connotazione essenziale nella definizione di questa malattia. E vedete, infatti, che questi criteri del 94, che non sono stati abbandonati, se voi andate alla ricerca in PubMed, dei lavori anche di trial clinici, anche trial clinici governativi, molto spesso utilizzano ancora i criteri di Orlando del 94. Sono i primi criteri della IASP. Piuttosto semplici, perché vedete che vi deve essere l'evento scatenante, vi deve essere il dolore continuo con aldinia e paralgesia, vi deve essere le alterazioni trofiche, l'edema, eccetera, e ovviamente devono escludere delle altre cause che possono essere, portare a questa situazione clinica. Quindi questo era stato ben definito dagli algolici. Qual era però il problema? Perché questa definizione faceva includere, era sì altamente sensibile, cioè noi non sbagliavamo mai, includevamo certamente all'interno di questa categoria le vere algodistrofie, però spesso includevamo anche altre cose che non erano l'algodistrofia, per cui aveva una bassa specificità tecnicamente. Vedete, poi ovviamente distingue in CRPS 1 questa qui, e poi se invece conosciuta la eziologia neuropatica, cioè del danno neurologico, si parlava appunto di causa algia, rimanendo quella terminologia tradizionale. Poi Arden e Bruele, che sono i due algologi che più si sono interessati del problema algodistrofia, infatti esaminarono qual era poi veramente la presenza dei segni e dei sintomi. Innanzitutto perché incominciarono a descrivere segni oltre sintomi, perché spesso qui abbiamo parlato finora solo di sintomi, quasi mai di segni, per cui analizzando la popolazione affetta dalla patologia, videro appunto la presenza, la prevalenza di segni e sintomi, di queste, vedete, che è molto diversificata. Portò a questa considerazione il gruppo degli algologi, al fatto che appunto bisognava incrementare la specificità, cioè bisognava ridurre all'interno di questa diagnosi le patologie che non erano algodistrofia. Per cui nell'ottica di ottenere questo risultato loro proposero una modifica. Questo è il lavoro di Arden del 99 sul quale si basa appunto poi quelli che vedremo i nuovi criteri diagnostici dell'algodistrofia. Vedete, a questo punto divide bene sintomi e segni. I sintomi devono essere presenti tutti e quattro questi campi, mentre in almeno un segno in almeno due di questi campi qui. Vedete che fa una certa distinzione, è inutile che stiamo a leggere, sono più o meno quelli che sapete, li vedremo meglio, in quella che poi è il risultato finale, perché Arden pubblicò, era anche, diciamo così, l'autore più prestigioso tra gli algologi che fecero parte di quella che si chiama la conferenza di Budapest della IASP del 2003, che formulò questi famosi criteri. Questi sono tutti i componenti del gruppo che ha formato i criteri di Budapest. Sono tutti algologi. Questo è un grave handicap dal mio punto di vista proprio e che noi cercheremo di superare anche grazie a questo convegno nell'approccio alla malattia che deve essere necessariamente un approccio multidisciplinare, come è riconosciuto, d'altronde, in tutti gli iniquiti internazionali. Per cui questa classificazione, questa tassonomia di criteri di Budapest era prettamente algologica. Questa, vedete, qui a questo punto diventarono, rispetto al lavoro di Arden, 3 su 4, e non 4 su 4, mentre i sintomi rimanevano almeno 2. E il problema qual è? Il problema è che è un grave bias, cioè loro propongono che per fare la diagnosi clinica ne basta almeno 3, però se devi fare la ricerca deve esserci tutte e quattro. Ovviamente questo è estremamente discutibile e questo semmai in discussione possiamo parlarne, però sicuramente i criteri di Budapest hanno avuto il successo che hanno avuto perché oggi costituiscono il gold standard per la definizione diagnostica della algodistrofia. Questi sono appunto l'incremento della specificità dovuto ai criteri di Budapest che sicuramente non sono però gli unici vi ricordo che non sono universalmente accettati, sono di comune prassi, ma non sono gli unici, tanto è vero che vi ho detto in alcuni studi clinici anche recentissimi si accettano i primi criteri ASP del 94, o addirittura i criteri di Atkins più ortopedici, in cui per esempio si dà importanza alla perdita della mobilità come criterio fondamentale oppure ancora i criteri di Veldman, anche questi pubblicati qualche anno dopo, in cui si dà importanza per esempio al fatto che durante un'attività i sintomi peggiorino, che io credo sia un concetto importante che non è considerato all'interno dei criteri di Budapest. Qual è a questo punto l'epidemiologia? Cambia moltissimo, perché potete già immaginare una cosa che pigliamo i criteri del 94, una cosa che è del 2003, l'Atkins o il Veldman, e questo è stato fatto questo paragone. Per esempio, vedete, se prendiamo i criteri normalmente vengono catalogati due studi, sono quelli fondamentali, il criterio, quello americano, per cui si parla di 5.5 ogni 100.000 abitanti, è quello invece olandese in cui è 5 volte maggiore la frequenza. Allora chi è? Ha ragione. In realtà questi entrambi utilizzavano i criteri JASP, quindi abbastanza inclusivi della patologia. Sicuramente sappiamo che incrementa con il maggior picco sia verso i 70 anni, è più frequente nelle donne, colpisce più l'arto superiore rispetto all'arto inferiore e riconosce un momento trigger, una patologia traumatica oltre il 70% dei casi, deve essere una frattura, una lesione dei tessuti molli, ovviamente dopo una chirurgia. Tutte queste condizioni sono fattori presenti nel 70%, quindi sicuramente una patologia post-traumatica, su questo non abbiamo dubbi. È stata inclusa, come sapete, tra le malattie rare, perché esistono i tre criteri dell'FDA e dell'EMA sulle malattie rare, cioè la preferenza molto bassa, la severità disabilitante è la deficit di disponibilità. Questo è stato recentemente, ve l'ho fatto vedere, perché le malattie rare vengono identificate anche come si dice orphan drug, cioè che non hanno una terapia, in realtà in questo caso per la prima volta abbiamo una terapia che è stata validata, come sapete, ne è ritornato, ma questo ne parlerà per la professoressa malavolta più tardi, su questo aspetto. Vedete come la frequenza della patologia a seconda dei criteri, molto inclusivo lo IASP, scende moltissimo se pigliamo i criteri, i criteri di Budapest o gli altri criteri. Quindi questo è un dato importante da sottolineare. Quali sono i fattori che patogeneticamente sono importanti? Sono diversi i fattori. Sicuramente nel caso in cui abbiamo, questo è nei casi che ovviamente avevano una frattura operata quasi tutti, vedete, la durata dell'anestesia è sicuramente un dato importante e come lo è l'uso del tourniquet. Sicuramente poiché tra le ipotesi patogenetiche più accreditate vi è il problema ipossia, riperfusione, in questo caso l'uso del tourniquet sicuramente condiziona un rischio maggiore di avere la patologia. Questa è un'ipotesi che poi vedete meglio, ve la farà vedere meglio la professoressa Malavolta in cui Varenna un reumatologo milanese ha cercato di mettere insieme i vari aspetti cioè l'aspetto danno periferico e ovviamente poi il cointeressamento di altri fattori in particolare della cosiddetta infiammazione neurogena cioè la produzione a livello locale di sostanze di neurotrasmettitori che ingenerano una ripercursione del circuito infiammatorio però questo credo che ne parlerà dopo la professoressa in particolare diciamo sono recentemente sono apparsi nuove considerazioni sulla patogenesi della patologia oltre i meccanismi che abbiamo visto patologici aberranti infiammatori un ruolo importante è quelli legati al sistema di posto autonomo vi è la cosiddetta neuroplasticità maladattativa su questo ormai tutti sono d'accordo tant'è vero l'articolo è stato pubblicato non molto tempo fa sull'anset neurologi e recentemente addirittura parliamo di molto recentemente di parliamo di neuroinfammazione neurologica cioè addirittura anche all'interno del sistema nervoso centrale cioè del midollo e dell'encefalo in alcune aree dell'encefalo esiste una problematica di neuroinfammazione che per esempio interessa le cellule della glia quindi questo aspetto è fondamentale e questo è stato visto perché per esempio il dolore non è vero che colpisce solo l'arto ma colpisce anche l'altro arto sano e questo è un meccanismo che non spiegherebbe il ruolo essenziale del danno periferico vedete come appunto recentemente sono stati messi appunto tutti vari risultati degli studi che riguardano la cosiddetta neuroinfiammazione neurogenica un altro dato interessantissimo recentemente apparto è questo perché si è sempre detto ma il danno osseo è iniziale è secondario è costante uno dei dati apparsi recentemente in letteratura è questo dell'incremento dell'osteoprotigeria l'OPG che sapete che è quella sostanza proteica prodotta in alternativa al rank ligando quindi che va a stimolare da parte degli osteoblasti all'attività osteoclastica in questo caso si avrebbe una maggiore attivazione questo è un dato ancora da metabolizzare all'interno della patogenesi perché non siamo ancora sicuri che ruolo abbia l'OPG sicuramente il danno osseo non è assolutamente così secondario così trascurabile come nelle ultime ipotesi era stato fatto allora Bruel che era uno degli algologi vi dicevo di Budapest addirittura dei primordi ha recentemente messo a punto tutti i fattori e qui ve li sintetizzo perché credo che sia giusto quello che dice Bruel non solo la lesione nervosa non solo il problema deficit ipostico riperfusione quindi stress ossidativi non solo il problema della sensitizzazione periferica ma anche quello della sensitizzazione centrale l'alterazione del simpatica addirittura li parla di un coupling oggi è stato scoperto un coupling tra simpatico e sistemi afferenti neuronali per cui diciamo c'è un circuito vizioso di attivazione di questa via e ovviamente i fattori legati alle citochine infiammatorie e all'immunologia e ci sono i branch e le alterazioni plastiche del cervello che sono state documentate grazie alle recenti introduzioni credo che la collega farà vedere dell'imaging riguardanti anche questi aspetti ovviamente da non sottovalutare la genetica che oggi è importante e gli aspetti psicologici il ruolo dell'aspetto psicologico richiederebbe un congresso perché essenzialmente sappiamo che sicuramente c'è un ruolo fondamentale nella percezione del problema che è giocato su fattori su fattori psicologici e questo appunto Bruehl che ipotizza come vi dicevo il sistema del coupling simpatico afferente che è fondamentale questa mia sintesi personale visione del problema appunto che il problema della complex regional pain syndrome può essere legato non solo alla genetica dal mio punto di vista ma a tutti i meccanismi epigenetici che condizionano la risposta fenotipica le caratteristiche degli eventi stressanti danno luogo ad una risposta ad un trauma in genere ed è così che se è adattativa parliamo di healing guarigione se è mal adattativa può dare luogo a una crps questo è un modo semplice di sintetizzare il complesso delle patologie e ovviamente anche l'approccio non può prescindere da tutti questi fattori non è pensabile di affrontare la terapia di una complessa patologia che prevede il coinvolgimento di tanti organi apparati e sistemi solamente ma anche solamente con un farmaco ottimo come in eritronate che rimane diciamo il target fondamentale però vedete che bisogna andare ad agire come aspetto di approccio globale che è già qualcosa che nel mondo fisiatrico appartiene al core mission del fisiatra cioè la modalità di approccio fisiatrico il messaggio finale è che appunto vi voglio sottolineare ancora che l'algodistrofia che la si chiami è una sindrome clinica piuttosto complessa che riconosce molti fattori quindi ha un processo patogenetico multifattoriale è un'espressione fenotipica ancora più variabile che l'outcome è per l'outcome migliore è mandatorio un successo un approccio immediato terapeutico come vedrete credo la prima volta ve lo farà vedere precocissimo deve essere l'approccio anche farmacologico prima che si installino tutto quello che è plasticità maladattativa e che naturalmente l'approccio dicevamo deve essere globale ovviamente rispettando il ruolo fondamentale che oggi è un farmaco che è indicato secondo le norme ministeriali specificamente per questa patologia vi ringrazio dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti